I modellisti ben ritrovati sul mio canale e questo è un video di post Romics 2019 come avete visto dal mio breve video in streaming c'era tanta gente, un afflusso continuo di curiosi al nostro stand ci ha fatto visita in tutti i due giorni che ero presente quindi volevo ringraziare chi mi ha ospitato ovvero sia Gundam Dipendente e Mechanical Rage devo dire che sono stato particolarmente colpito dall'afflusso di persone e niente, spero di ripetere questa occasione mi sono divertito Gundam Dipendente e Mechanical Rage avevano anche organizzato una Gunpla e devo dire che il riscontro è stato notevole una piccola differenza tra il comics di Milano e del Romics c'è nel senso che forse al Romics, premetto, ho girato poco perché ero lì a divertirmi allo stand e quella di Roma e cioè che forse quella di Milano ci sono più stand un po' più ricca infatti al Romics c'era tanto tanto spazio per i cosplayer relativi eventi per il resto soprattutto domenica tanta gente comunque è bello vediamo di ripetere l'esperienza questo qua era il modello che stavo facendo al Romics ringrazio ancora chi mi ha ospitato ci vediamo sicuramente nei prossimi eventi vediamo se riesco a organizzarmi per fare qualche concorso ci sono molto vicini Tiene e Verbagna per Verbagna la vedo dura perché non sono riuscito a ultimare questo modello vediamo se riesco a farlo magari in due step giusto per portare qualche cosa e invece Tiene ci sarò sicuramente ringrazio ancora tutti voi per avermi seguito vedo che gli iscritti salgono sensibilmente ma salgono quindi grazie mille e niente ci vediamo ci vediamo nei prossimi video Romics 2019 Maurizio Macari Mac che mostra tutta la sua maestria nel modellare Tetsuya di spalle che sta insegnando a dei bambini i rudimenti del modellismo sentirei i miei commenti sto facendo commenti stile partita di pallone scuola di modellismo grazie a tutti Tetsu, impegnato, fammi un sorriso, cheese, Dior, tutti i bimbi, socia di Massimo Boldi, Vett Green Regista. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.